Tra i comuni che si presentano al voto per le amministrative di domenica 26 maggio c'è anche Riva del Po, frutto della recente fusione tra Rò e Berra. Cinque candidati sindaci, Serena Occhi per Futuro Eco Compatibile, Daniela Simoni per Gente di Riva del Po, Mariana Lucchin per Centrodestra Unito per Riva del Po, Maria Cristina Felisati per Basta Sprechi e Andrea Zamboni per Insieme per Riva del Po. Sicuramente due punti per noi fondamentali sono il lavoro e la scuola. Per quanto riguarda lo sviluppo economico e il lavoro sicuramente occorre, per poter far ripartire un po' l'economia, ridurre quella che è la tassazione per le imprese, sia per i nuovi insediamenti che per le imprese esistenti. Per quanto riguarda la scuola riteniamo che si debba fare molto, sia per ottimizzare i nostri istituti già esistenti che per attirare anche studenti dai territori limitrofi. Io mi muovo tra la gente in questo periodo, soprattutto in questo periodo, e vedo persone che sono molto sole, molto sole e soprattutto sole nella malattia. Quindi c'è bisogno di welfare, di potenziare welfare, soprattutto di dare soluzioni per le persone che soffrono, per le persone con disabilità, per le persone che nella malattia si trovano sole e prive di servizi. Un altro importante punto all'ordine del nostro programma è il lavoro. Cioè se non facciamo crescere e insediare le imprese sul territorio, siamo destinati a morire. Noi vogliamo fare più controlli, perché è giusto che chi ha bisogno di una casa popolare deve avere tutti i requisiti per averla. vogliamo dare più incentivi alle associazioni che operano nel territorio, perché sono uno strumento molto importante per la nostra comunità. Poi vogliamo fare in modo che la gente si senta sicura, soprattutto nelle zone più a rischio, esempio scuole, cimiteri, case protette, case famiglia. Il nostro programma è impregnato completamente sul lavoro, cercare di raccogliere più adesioni possibili di impenditori e dare a queste aziende un'opportunità per insediarsi e non pagare tasse per almeno dieci anni, con l'impegno di assumere del personale, soprattutto giovanile, nel nostro territorio. Partendo da questo presupposto, ecco che allora c'è l'insediamento delle famiglie, ci sono i servizi che si aprono, ci sono i negozi che funzionano e c'è tutta una serie di humus territoriale che funziona. Avremo un'attenzione fondamentale sulle famiglie, per famiglie intendo fondamentalmente la possibilità di fare inserire, di fare arrivare nuove coppie e nuove famiglie sul territorio, promuovendo lo sviluppo di servizi. Avremo un'attenzione particolare al volontariato, il volontariato terzo settore, che per noi rappresenterà un pilastro di questa amministrazione, e fondamentalmente un volontariato competente, quindi che interviene e che partecipa assieme all'amministrazione, alla gestione e alla promozione di servizi in ambito sociosanitario e di promozione del territorio.